Il Comune di Sulmona accoglierà 4 giovani tra 18 e 28 anni volontari per il Servizio Civile Universale 2021 che dovranno rispondere all'avviso denominato Io resto informato, compreso nel programma Un sistema da comunicare, del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. Gli aspiranti operatori volontari potranno dunque scegliere il Comune di Sulmona per occuparsi nello specifico di diffusione delle conoscenze della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione. Sarà a cura del Centro Servizi Volontariato regionale la selezione dei candidati, quali dovranno presentare domanda direttamente all'ente titolare del progetto prescelto entro le 14 del prossimo 15 febbraio, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda Online, raggiungibile attraverso PC, tablet e smartphone all'indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Invito tutti i ragazzi a partecipare, si tratta di una bella opportunità per i giovani che potranno aggiungere a proprio bagaglio culturale, formativo e di conoscenza. Un'esperienza qualificante in un campo, quella della protezione civile, che si sta rilevando estremamente importante per i territori nella gestione delle emergenze. Pertanto i candidati selezionati vorranno essere operativi a supporto delle attività della struttura comunale di protezione civile, occupandosi della comunicazione per diffondere la cultura dell'emergenza, della gestione dei rischi a vantaggio delle popolazioni, afferma e sindaco Anna Maria Casini. Su sito del Servizio Civile Nazionale è possibile consultare la scheda progettuale completa.